Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, con il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo, è tornato di nuovo in strada in uno dei quartieri più difficili della città di Pescara, in via Rigopiano. La situazione rischia di esplodere, spiega Pettinari. Sfondano e occupano abusivamente, spazio di droga all'interno delle abitazioni, tutta una serie di attività illecite che vanno a danneggiare gravemente il cittadino anesto. Quindi oggi, anche se io non governo la regione Abruzzo, ma ho voluto portare il tricolore per dire che qui lo Stato, seppur in opposizione, c'è. Ma la richiesta va fatta quindi a chi governa in questo momento la regione. Queste sono case ATER, quindi di proprietà di regione Abruzzo. Io esigo che come priorità nell'agenda di governo venga messa, uno, lo sfratto immediato di tutti gli occupanti abusivi, che qui sono pari al 40% degli assegnatari, delinquenti pregiudicati. Prima cosa. Seconda cosa, vanno rimesse in sicurezza queste abitazioni. I cittadini onesti sono costretti a pagare la corrente per loro e per gli abusivi, perché gli abusivi si allacciano abusivamente anche alla corrente elettrica e quindi alle scale, al condominio, e loro sono costretti a questo. Ci sono delle situazioni di insalubrità diffusa, la faticenza degli appartamenti, la faticenza dei palazzi, e questo è un problema serio. E poi chiediamo in supporto, naturalmente, una presenza massiccia da parte delle forze dell'ordine, con unità fisse di polizia. Lei abita in Viericopiano ed è molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato, sia con le istituzioni, sia con i nostri governanti che abbiamo. Adesso c'è il signor Salvini che ha vinto le votazioni. Speriamo che, almeno se non viene lui, che manda dei suoi commilitoni a vedere le condizioni in cui abitiamo, con la sporcizia, con la delinquenza. Belle donne di sera le lucciole, se vogliamo parlare di tutto. E questo è Viericopiano, vicino all'ospedale civile, nel centro di Pescara. Avete paura? È abbastanza, perché comunque non è semplice. Ci rendiamo conto che chi commette questo genere di reati, quindi l'occupazione abusiva, o è una persona disperata, oppure è una persona che non ha paura della legge, diciamo. Le persone per bene magari aspettano il loro momento.